ciao a tutti da Claudio di Anello.it il vostro blog 10 che potrei dirvi che oggi è il primo di febbraio hanno previsto un'altezza medio sul livello del mare di 1,20 questa sera alle 23 e che dopo tre mesi dalla prima burrasca che ha portato via arrasato al suolo proprio tutte le dune le hanno rifatte ma sempre sabbia con sabbia sono sempre della mia idea buongiorno buongiorno tra la scienza e la stupidità umana bene oggi è il terzo giorno di mareggiata e a Jesolo ci troviamo sulla zona Cignobianco dove esattamente lo scorso agosto qualcuno urlava come un lupo forse nato ci sono 46 metri di spiaggia vediamola bene questi 46 metri di spiaggia eccola qui secondo lui queste dune avevano fatto sì che il mare avesse portato milioni e milioni di metri cubi di sabbia guardate ecco la mera realtà purtroppo lasciamo pure che il mare usi la sua voce questi sono i sacchi sono stati messi diversi anni fa per la salvaguardia proprio dell'arenile e perché con questo punto di domanda Claudio io documento claudiovenello.it ciao e alla prossima